Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Rioveggio e Aglio in direzione Roma e tra Firenze Nord e il Bivio con la variante del Balico in direzione Bologna. Rallentamenti invece a causa di un incidente ormai risolto tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Bologna. Sempre in A1 si ricorda che fino alle ore 6 di lunedì mattina rimarranno aperte le corsie di destra tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci e lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata e in uscita in direzione Bologna. Sul mio raccordo sia una Firenze invece a causa di lavori restringimenti di carreggiata tra San Casciano e in Pruneta Grevenchianti. Chiudiamo con la viabilità della città di Firenze a causa di un incidente restringimento di carreggiata e traffico rallentato in via Erbosa. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!